Ciao, mi chiamo Isabella e benvenuto nella dashboard di Dish POS. In questa esercitazione ti mostrerò come aggiungere un prodotto e come inserirlo a un menu. Per prima cosa fai clic su articoli, poi fai clic su prodotti. Una volta visualizzata la panoramica di tutti i prodotti, fai clic su plus, aggiungi prodotto. Inserisci il nome del prodotto nel campo di testo corrispondente. Assegnare il prodotto a un gruppo di prodotti selezionando un gruppo dal menu a tendina. Successivamente selezionare il gruppo di fatturato attraverso il menu a tendina, quindi inserire un prezzo utilizzando il campo corrispondente. Una volta impostati i dettagli del prodotto, fare clic su salva per applicare le modifiche. Per verificare che il prodotto sia stato aggiunto è possibile utilizzare la funzione di ricerca. Troverai il prodotto cercato qui sotto. Per aggiungere questo prodotto a un menu, fare clic su menu. Fare clic sul menu a cui si desidera aggiungere il nuovo prodotto. Aprire quindi il menu secondario tramite la freccia rivolta verso il basso in cui il prodotto deve essere inserito. Ripetere l'ultimo passaggio fino a raggiungere il menu desiderato. Una volta aperta la categoria finale in cui si desidera inserire il prodotto, passare alla colonna prodotti e selezionare il prodotto dai menu a tendina. Oppure cercate il vostro prodotto con la barra di ricerca. Trascina quindi il prodotto selezionato nella categoria scelta in precedenza. Il prodotto è stato aggiunto al menu. È tutto. Hai completato l'esercitazione e ora sai come aggiungere un prodotto a un menu. Tieni a mente che è necessario comunicare i cambiamenti apportati al tuo sistema andando nelle impostazioni generali.